e allora c'era sto concetto marchesi che lui diceva trieste è italiana italiana i nostri compagni che tenevano prestare adesso quando la 54 finché non è morto non è morto si è morto nel 54 morto eh sì la politica adesso quando ci penso su tante cose mi viene da ridere su tante cose mi verrebbe quasi da piangere a genova perché c'era il fatto che non c'erano treni non c'erano treni io da quando sono arrivata a padova da milano a padova ho viaggiato verso il 20 non mi ricordo se il 20 il 21 ma doveva essere verso il 20 su un camion in cima un camion che era aveva tante di quelle casse che superavano la cabina e noi perché non c'ero io solo c'era dell'altra gente anche a volte in una coperta in cima tanto che passando sotto i ponti dovevano 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 dovevamo abbassarci così perché se non ci piccavamo dentro con la testa questo il 20 di gennaio 20 di gennaio del 45 perché sono stata una quindicina di giorni se non la metà di dicembre avevano arrestato mia sorella poi sono stata a milano da mia sorella maggiore che lei era già a milano mi faceva la stafetta tra genova e milano e insomma sono rimasta lì a milano da mia sorella e poi mi hanno mandato a padova e ci sono andata verso il 20 verso il 20 di aprile sono tornata dopo la liberazione sono tornata alla fine di giugno a genova e perché non riuscivo a trovare perché lì i treni non c'erano dovevo trovare tanto non riusciva di strecarmi sai come succede e così sono arrivata alla fine di giugno la fine di giugno mio marito aveva già preparato la la casa che dovevamo spiegato eravamo fidanzati se eravamo promessi mio marito aveva mio marito aveva già chiesto la mia mano a mio padre verso la metà di dicembre del 44 va chiesto la mia mano a mio padre e lui le ha detto ma siccome il mio marito era un tipo lo vedevi signorile no così insomma vedeva una persona mio padre era un operaio e mio padre dice ma sai mia figlia ha solo la camicia che andossa beh togliere anche quella che a me non mi serve era stronzo ma io e senti in quei mesi che hanno succeduto la liberazione ci sono state una serie di situazioni come dire di resa dei conti di vendette c'era cose che andavano fatte no perché i fascisti si erano anche come dire spinti troppo in là io a dire il vero a padova non mi sono accorta di queste cose certamente ci saranno state ma a padova come città non me ne sono accorta a padova come città non mi sono accorta di queste cose che andavo watte a Genova per sentito dire dopo hai voglia se ci sono state a Padova non mi ricordo questa cosa invece di Genova non ricordo gli episodi famosi anche c'è stata la giornata della spia che hanno ucciso parecchie spie non saprei mi ricordo il canoneggiamento dei francesi per esempio quando sono arrivati ma quello era d'estate quando i francesi hanno canoneggiato San Pier d'Arena sono arrivate so che avevo degli amici lì anche compagni poi che sono andati nei partigiani che hanno perduto la casa da queste da queste granate che sono arrivate lì a San Pier d'Arena dal mare? dal mare sì ma queste erano nel in estate non c'era niente con la resa dei conti no con un atto che era anche così no con la resa dei conti beh io a Genova non c'ero quindi non ne so niente beh per esempio la giornata della spia sembra una cosa interessante questo per sentito dire per sentito dire che che hanno ammazzato delle spie basta ma non so nemmeno quando come non lo so questo ok non lo so non lo so Grazie a tutti.